Un saluto a tutti ragazzi da Messi91, siamo su One Piece Per Tour 4 con il quinto capitolo della saga di Wall Cake Island, distruzione e la cerimonia del tè dall'inferno. E il sommario dice, dopo aver salvato il gruppo con successo, Jinbei elabora un piano epico per interrompere il matrimonio tra Sanji e Pudding, che prevede di mettere molteplici rufi all'interno di una torta per farli saltare fuori. Un piano epico. Oh, carotto, c'è carotto ragazzi, fatta! Un po' di più, che prevede di un po' di più, che prevede di un po' di più. Un po' di più, che prevede di un po' di più. Un po' di più, che prevede di un po' di più. Un po' di più. Un po' di più, che prevede di un po' di più. Un po' di più, che prevede di un po' di più. Bravo, Rufi, che se lo merita tutto. Andiamo a salvarli. Fatta! Soprattutto Reizu, che Reizu ce lo merita, gli altri un po' meno, ma Reizu. Vai che adesso ci spiega il piano incredibile, Jinbei. Come fa a star seduto di sopra, piuttosto? Ma non ci sta, palesemente non ci sta. Un piano segreto incredibile. Chissà quando mi fanno giocare ai biggie, voglio giocare ai biggie, che pallo. Che bello, riquadro là dietro. Non è vero, Biggie. Non è vero. 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 guarda come sta attaccato ai denti quel sigaro lì. Fatta Wedding Kiki stiamo arrivando Ecco Katakuri Mi chiedevo quando sarebbe entrato in scena Mi chiedevo quando sarebbe 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 in scena Mi chiedevo Perché sono tutti dei pezzenti del cacchio nella tua famiglia Soprattutto questa Maledita lei Maledita lei Si però non hanno fatto dire Wedding Kiki a Big Mom neanche una volta Ma che tristezza Dillo Dillo No dovevi dire che fa Ragazzi quella non è Big Mom è un impostora Sicuramente Sicuramente quella non è Big Mom Dai una lezione alla finta Big Mom perché non ha detto Wedding Kiki neanche una volta Mentre l'anime non diceva altro per ore Comunque qualcuno dei rufi e compagnia si è sconfitto Va bene Aiuta rufi e compagnia a trovare un modo per raggiungere Big Mom Ok quindi allora abbiamo potenziato la signorina Carotto Vedete Carotto è potentissima adesso Carotto è un cannone in miniatura Le attacchi speciali sono solo questi quindi Electrical Tempesta Assalto del Visone Electrical Full Power Electrical Shower Ok Forza dell'eroe Collezioni monete Tazza degli Affiliati Miramento attacco Sagesta del Capitano Toglieremo questo per mettere il Cacciatore di Giganti O come diavolo si chiama quello che fa uccidere più in fretta Stermiatore di Giganti Eccolo qua I personaggi grossi e puzzoni Fatto Sagesta del Capitano? Nooo non mi interessa Perché ho quell'abilità? Ecco qua quindi Forza dell'eroe Monete Stermiatore di Giganti Miglioramento attacco X Miglioramento attacco a terra Fatta Però lei salta Ma va bene uguale Va bene uguale la teniamo così fatta Eccoci qua col Carotto Guardala lì Guardala lì è quello ed è un uro incredibile del Perurin Guardalo Guardalo Sporompere No Maleditto Perurin Quindi che devo fare? Eh Perurin rompe le scatole vedi? Quindi che devo fare? Io posso manco conquistare Ah ce l'ho tolta Aspetta non l'avevo vista Vado vado E poi Mamma Mamma mia Carotto Quanta possanza in un piccolo scricciolino come lei Mamma mia Tra l'altro l'unica cosa che mi dà fastidio di Carrot è che non c'è la trasformazione in coniglio Mannaro Io credevo che potenziandola ci fosse la trasformazione tipo Rufino Rufino ha 28 di trasformazioni No lei non ne ha neanche una Che tristezza Ha un attacco speciale che la trasforma per tipo 3 secondi e basta C'è della tristezza in tutto ciò C'è molta tristezza Se no per il resto è fortissima Carrot Cioè vedete stiamo sfondando tutto e tutti Cioè non c'è niente che può reggere a Carrot Che attacchi elettrici paralizzanti incredibili Mamma mia C'è uno dietro di me l'ho abbandonato Ho perso uno alle mie spalle lo so Ecco fatto Shottatissimo Vado vado Ma stai buono Yonji Maledizione a te Facciamo stare Sanjo Il nostro amico Sanjo E' apparsa roba alle mie spalle vado Tra l'altro non posso conquistare niente qua Niente posso conquistare che tristezza Addio Eh volevi eh Non c'è riuscito a farmi invece l'attacco Bravo Complimenti non me l'aspettavo Bravissimo Vieni sotto me va là Chi è il Katakurio? Chi è il Katakurio? Mi potenzio mi potenzio che se c'è il Katakurio Vieni qua Katakuri Chi è? Chi è? Mamma mia se siamo fichissimi noi Siamo Carrotti Non vedo un tubo però Mi spiace Bilanciamento ragazzi Carrotti che fa il sedere Strescia il Katakuri Guardate Bilanciamento di sto gioco Mamma mia Mamma mia il bilanciamento L'ho ucciso con una sola combo Fatta? Katakuri Allora? Scusami Ok si è ripreso Molto tranquillo di stare Ai 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 Sicuramente mi fa malissimo Peccato che non ho il tempo di reagire Perché noi siamo fichissimi Fatta battuto Com'è? Non l'abbiamo battuto Si è ripreso tutta la vita? Ok quindi questo non è il mio scopo Aiuta Rufi e compagnia non vuol dire batti Katakuri ok Però Katakuri attacca Rufi allora Io l'ho battuto Katakuri Allora Sto gioco maledetto Setta setta Arrivo Rufi Sto arrivando Sono qui Penso io a lui Saluta il posturdo di nuovo Maledetto tu Cittone che non sei altro Katakuri Sei un ciccione del cacchio Brutto Puzzino Puzzetto Andiamo molto lontano da Rufi Katakuri Molto lontano da Rufi Sì C'è però spero Ficchio però spero che è meglio Katakuri abbiamo già visto che tanto non viene più Perorini dove sei? Vieni vieni Perorini Vado Perorini e Katakuri tutti insieme Fatta Mi chiamo tutti Noi non vedo un tubo Non vedo un tubo Mamma mia Carrot mamma mia Porca miseria sta qui Bilanciamento Perché ovviamente Carrot da sola Può tenere testa Katakuri e Piero Spero Insieme Giustamente Ci sta ci sta Ma quello lì ha finito di apparire a caso dove gli pare a lui Non è corretta sta cosa Se la vuole smettere questo qui Allora Stiamo morendo fortissimo tra l'altro Me ne sono accorta Aspetta devo vedere se Perorini mi ha lasciato la vita Sì che me l'ha lasciata vedi Bravo Perorini Sapevo di poter contare su di te Ehi Che spa Porca miseria Ma perché Big Mom deve essere così creepy Porca miseria È tutto spa-intoso intorno a Big Mom È per fortuna che è circondata da dolcetti Porca miseria Scatata da dolcetti Torre via Viagra 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 Peccato che non sia così confusa da one shotarsi da sola Sarebbe stato esilarante Peccato Ehi Mochi Mochi Stai buono Ma guarda questo Bravo Rufy Tieni Guardalo lì Bigi il grande stratega Mamma mia con quale piano perfetto se ne è uscito lui Mi hai dispiaciuto un sacco che il tuo piano è fallito miseramente Ti meritavi la vittoria Io lo dico Ecco qua Tutta sta gente Allora se ne vuoi fare una ragione e stare buona Allora Muorici Muorici Niente ancora vivo Guardalo lì Che devo fare? Esegui gli ordini di Bigi aiuto gli alleati a ritirarsi Ok quindi Katakuri Di nuovo sei in sempre pezzo alle balle tu Che balle Però non c'è scritto batti Katakuri Io Katakuri non lo batto Lo lascio al suo triste destino Ovvero farci battere lo stesso per me in mezzo alle balle Vedi? Bravo Katakuri così si fa Ignora Katakuri Messi Non so se lo prenderò È un po' lontanino Lei invece l'ho preso vedi? Vai 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 Forza forza Levati Katakuri Ignorare Katakuri Questa è la mia priorità Ma che bello è Ma lo voglio giocare subito Che palle Guardalo lì Bravo Bigi Non lockare Katakuri Carrot Ignora il Mozi Mozi Fallo Il Mozi Il Mozi Il Mozi Puoi saltare? Ottore che sto premendo il salto Salve Katakuri Salve Lei è sempre in mezzo alle balle Non è capace di stare fuori dai miei Dai miei combattimenti Vero? Io non so però se sto facendo giusto Non credo C'è una missione qua fuori Vado a vedere che missione è Secondo me io devo aiutare Gli alleati fuori da qui a tirarsi Però non c'è dietro di me vero? Ho però sentito un Thor Gatling dietro di me Rochetti Sì sì Rochetti dietro Rochetti devi uscire da lì Allora? Tutti molto tranquilli Mamma mia Mamma mia Ci riprovo Mamma mia Carro Un po' di contegno Cosa c'è là in fondo? Però spero Vado Ehi Perolin Ciao Sono arrivata Perolin Ehi Perolin Il tuo scudo non conta nulla per me Mamma mia che bruciata Dio dato a Perolin Saluti Perolin No che succede Yonji Io però devo seguire i miei alleati Devo ignorare tutto il resto Per scappare la gente qua Perché si iniziano a cadere Come le mosche e la fine Picchia picchia Carotto picchia Sì Dobbiamo occuparci solo della nostra gente Che se ne frega degli altri Roch vattene Scappa Roch vattene Guardate essi devono scappare tutti i fratelli di Sanji Mentre Reizu è tipo Dio stare gestendo un sacco Chi era che è? Mamma mia Saluti Bravissimo 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 Allora vogliamo andarceli da quest'isola maledetta? Jinbe Jinbe andiamo via No Reizu Ti ho appena fatto i complimenti credibili e tu fai questo Reizu Però sì credo di dover ignorare la gente lì dentro perché continuavano a spawnare Sono uscita per quello Io devo aiutare loro a ritirarsi e basta Vediamo gente la strada è libera veloci Salviamo Reizu Salviamo Reizu Noo per un secondo non ce l'abbiamo fatta Reizu La strada è più bella Ah ma qui c'è BG Guardalo lui Quale faccia BG Credo che non ci sia modo di salvare i fratelli di Sanji là dentro Cioè bisogna scappare e basta qua probabilmente Yes Yatta anche a te Questo è un ottimo capitolo per farmare i fratelli di Sanji Dovrò farlo soprattutto Yonji è quello messo peggio Guarda quante belle monete anche la moneta della madre di Big Mom che al momento non mi ricordo come si chiama perché la mia memoria fa schifo ma va bene così Un milione di berry wow questo è un capitolo da farmare fortissimo Il video di oggi termina qui e finalmente abbiamo potuto provare Carotto in tutto il suo splendore Che bella che è Carrotto ci sono un sacco di PG in questo gioco che anche se non sono magari fortissimi e non sto dicendo che Carrotto non sia forte Cioè avete visto con un attacco rompe le difese per ma stanna la roba quindi Carrotto è fortissima per quanto mi riguarda Però ci sono tanti PG che anche se non sono magari fortissimi come per esempio Sabo o Ace Sono belli da giocare sono tutti quei personaggi veloci e volanti che grazie al nuovo sistema di combo a mezz'aria Magari non sono molto performanti non fanno grandi quantitativi di danno come altri PG però sono belli e divertenti da usare a me piacciono veramente veramente tanto Sono contenta che Carrotto sia una di questi perché è veramente divertente da usare E vorrei far notare che non è ancora potenziata del tutto tutti i PG che stiamo usando sono potenziati al massimo che posso finora Ma ci sono certe monete che sbloccherò più avanti che al momento non posso usare che li potenzieranno ancora di più quindi vedremo cosa succederà Io come sempre vi ricordo di lasciare un commento un like ed iscrivervi al canale se non lo avete già fatto Vi auguro una buona giornata un saluto a tutti Ciao 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 Ciao